Sì, sì, è un libro già uscito da tempo ma che sta ancora suscitando interesse, tant'è vero che sto continuando a girare l'Italia anche per raccontare una storia che è una storia che affonda le sue radici alla grande guerra, racconta la storia di un ragazzo morto nella grande guerra cercando di immedesimarmi in lui e soprattutto di fare in modo che i ragazzi di oggi si immedesimino in lui. È una storia ovviamente dolorosa che parla di un ragazzo risucchiato dalla voragine del conflitto mondiale ma è anche una storia secondo me di affetti, di legami che durano, una storia che si interroga sul dopo, cosa succede in una famiglia segnata da una vicenda tanto terribile. Durante la presentazione viene presentato invece un nuovo libro, qual è il titolo e di cosa parla questa nuova opera? Sono le cose singolari che succedono quando ti si complica il calendario dell'uscita editoriale e delle presentazioni. Oggi presento un libro di qualche tempo fa ma nello stesso tempo proprio in questi giorni è uscito un nuovo libro, L'uomo che ci regalò i numeri, edizioni Mursia. È la storia di Leonardo Fibonacci, un personaggio che probabilmente molti di noi già conoscono, l'uomo che in qualche maniera sarà sempre legato a una serie di numeri che esprime qualcosa di meraviglioso nella natura e nella cultura, la proporzione aurea, il senso dell'armonia, ma che io voglio ricordare anche come un uomo che nel Medioevo delle Crociate ha attraversato il Mediterraneo, ha viaggiato molto, ha saputo dialogare e ascoltare quelli che dovevano essere i nemici del suo popolo. E da questo popolo ha saputo imparare molto e soprattutto ha portato i numeri che non a caso sono i numeri chiamati ancora oggi da noi numeri arabi.